La CGL e lo SPI di Caltanissetta, presieduti dai loro segretari Rosanna Moncada e Paola Anzaldi, esprimono grande preoccupazione in merito a quando sta accadendo presso l'ufficio Tributi del Comune di Caltanissetta, dove tanti cittadini, di cui molti anziani, stanno affollando l'ufficio per avere chiarimenti riferiti alle cartelle ricevute. Pertanto chiedono un incontro con l'amministrazione comunale per capire come mai gli anziani sono costretti dalle prime ore del giorno ad aspettare l'apertura degli uffici esposti alle temperature rigide di questo periodo per accalcarsi in spazi limitati e quindi esposti ad eventuali e pericolosi contagi. Abbiamo contattato l'assessore Giuseppe Lamenza che ha dichiarato che l'amministrazione sta provvedendo a riorganizzare il servizio, puntando per un verso al miglioramento dell'accoglienza e per un altro verso lavorando all'infrastruttura informatica che consentirà di snellire gli afflussi. Pertanto dalla prossima settimana gli orari di ricevimento al pubblico saranno lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12, martedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17.